Bella idea quella del Winner Takes All, eh? Alla fine mi è costata il titolo hardcore che detenevo da oltre 200 giorni. Cazzo! Ehi, guarda che sei stato tu a chiedermi di affrontarlo in un match di assoluto rilievo nello show più importante dell'estate. E poi è visto. Il titolo non gli è rimasto per molto tra le mani. Quindi ho sistemato le cose. Rilassati. No, non mi rilasso, perché intendo essere risarcito in qualche modo. Non mi interessa se gli hai fatto perdere la cintura. Come intendi risarcirmi? Si può sapere? Voglio qualcosa di concreto per me. Perché il mio proseguo nei percorsi che contano. Ascolta, avevo già un'idea. Tanto ormai ci siamo capiti, no? Abbiamo un nemico in comune. Perciò io e te contro Disco Mexico e Carlos Garcia al prossimo super show Rov No Mercy. Entrambi potremo schiacciarli come meritano. E poi penseremo al tuo futuro. A tal proposito vorrei dirti due cose in privato. Ma dobbiamo mandare prima via le telecamere dal mio ufficio.